Portici in Teatro nasce dall'esigenza di dar lustro a quelle che sono le realtà semiprofessionistiche del teatro nazionale senza alcun vincolo di appartenenza a federazioni, infatti è un premio indipendente che dà la possibilità alle compagnie al di là di quelle che sono le difficoltà economiche di rappresentare uno spettacolo, di mettersi alla prova e confrontarsi. Tutto questo è la quinta edizione di Portici in Teatro, una kermesse che si è svolta nella suggestiva cornice della reggia di Portici in ricordo del grande attore Antonio Allocca. Molti gli ospiti illustri chiamati a giudicare e appremiare le eccellenze teatrali della penisola da Ernesto Maier a Gigi Savoia, da Paolo Cagliazzo a Gianfranco Gallo. Io ho avuto il piacere di dare il battesimo a questa manifestazione, mi sento poi il padre putativo di questa cosa che Giorgio ci mette tanto amore, per cui è chiaro quando tu ci metti amore tutto va bene, tutto cresce. Ricordare un attore come papà, ma specialmente una persona come Antonio Allocca, è sempre una grande emozione. Resta vivo il ricordo dell'attore, del comico, del caratterista, per cui farlo qui nella sua Portici, in mezzo ai suoi amici e con me diventa una cosa memorabile. Tanta l'emozione nell'Anfiteatro Naturale della Reggia, 102 i partecipanti appartenenti a compagnie amatoriali provenienti da tutta Italia. Un evento culturale che dal 2014 ad oggi risulta essere il premio teatrale più seguito a livello nazionale. Mille uomini in campo per un orgoglio tutto porticese, fortemente e tenacemente evoluto nonché ideato da un giovanissimo appassionato di teatro e convinto divulgatore di questa nobile arte.